benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di stiamo su fortnite come vedete stiamo con Gabriele e quindi se sarebbe tornato a lei allora come vedete scusate per l'altro video che vi ho detto terzi su fortnite io l'avevo registrato ma non mi ha dato la registrazione quando siamo arrivati c'eravamo due scaracca no due scaracca tra cui il mio e il leggendario e il suo epico avevo il cecchino epico un bel tenere bene vabbè siamo ritornati su fortnite raga un mio palcù a tutti sì 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 l'ombrello vabbè ragazzi non sono grande guarda non sono grande non è un bel rosa oh non è un amore allora ragazzi seguitemi a me io sto a giocare al ride ma metti il segnalino metti il segnalino allora venite con me qua io direi che facciamo andare a fare l'uomo e venite con me vabbè andiamo a reterroo reterroo vabbè andiamo a reterroo qui voglio no aspettiamo un po' di gian di aula io arrivo io arrivo io arrivo io arrivo in corso raga tu vai no 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 sono da reterroo però se me ne ce vanno qua io veramente no ragazzi andiamo a tomato town tomato town e no seguite 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 io ormai non posso cambiare cristo non dovevi ne prima porco si vuole eh cazzi mia no cazzo dai io sto qua io sto qua io sto qua il penitenziario io sto tornato town ma che vedivo e vabbè sto tornato town e vedete porco percentuale scappa però c'è una percentuale che trovi lo scaracca qua dietro ma non vedo niente si lo so al basso però oh vieni venite da me c'è una persona io raga come uno stupido non ci sono non ci sono riuscite ad andare se mi aspettate vengo con voi io scappo ciao ciao tommy tommy vieni 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 incontro c'è un attimo che c'è un attimo che c'è un attimo che c'è un attimo che c'è un attimo io ho tolto 38 a 1 però non è morto se non si passa la staccazza due paure e la madosca gioco tutti si voglia di buona ok qua si arriva sopra ecco lì pauli mortacci sto qua ingastrato no 2 pauli in un colpito solo Lasciate le lanciagranate Baffanculo Non c'è granate Non so Non so Io sto a fare tutto da solo Io ho il fuzile per te Eh, ci stai facendo Che c'è l'avviato Eh, tu vieni con me Guardami a me Oh, guardami a me Che cazzo, Gabriele però Non me ne frega un cazzo Oh, io sono andato a tomatodown a cercare qualcosa di migliore Ah, ho capito, adesso decidiamo da andare là Andiamo là No Ah, ho capito Ma poi vedi a gente Quindi Inversione Ma che vedi a gente Io ho preso i fuzili E sei morto Eh, sono morto E Valerio che non c'era manco mezzo Ancora vivo Eh, un timo però Guarda caso Un timo intero Io da solo Giustamente la mano Succede, non no Pure io tromba muoio Tutti Tutti Ci muore nella vita Ma ma non mi interessa Se sei vivo o morto Mi interessa Cioè, Gabriele C'ho abbandonato Tu Valerio La pezza Che già Nella mia città Quindi Però Gabriele Che se ne va là Devi dirlo prima Gabriele Quando siamo in fumo Non lo devi dire Bella la Bella la Ma io che ti ho detto No, io voglio sapere Che cosa ti ho detto io No, non scendi La cosa giusta Ti convinto L'arma Io adesso avveni incontro Veramente Vieni, dai Bello Vieni, vieni Guarda qua Vieni 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 Valerio Valerio Eh Oh allora Tu ne vado Poi l'arma Ci sono Una cazza Da Valerio Quindi Faccio Due Non è che E' Se tu Devo 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 Non Vieni Se Non Se Non Vieni Si Non vale aspetta la 100 c'è da 600 sei morto ma che cazzo dici andiamo quando avevo da seconda che sono sotto al culo qua valeva letto cazzo vai fermo 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 dai alla seguime a me aspetta prendili cosa grande allora dobbiamo seguono a me allora andiamo no 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 rientro in centro scusa andiamo verso la verso di qua no andiamo a presentare no dusty dead bot andiamo ma perché è se metta a balla si sente tanto o annamoli del link in quelle in quei forti o se c'hai ceci ai casi del pompa da cino è un'arma con i proiettili medi posso vederlo che ti riceve per l'arte l'arma che ti ho dato pochi cioè qua c'è una 47 è mio quella è il mio da lascia non ho visto prima io è la trappola che non si può entrare ma però un angolo ciascario una ricorda dove giuro è vero da me che mi servono a me ecco che ecco come munizioni aprendo io mi prendo dei bandaggi dove è su con le balle ma ecco davvero altre munizioni ma le ha fatto questa per quattro munizioni c'è fatti cazzi tu no 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 non lo so 47 47 47 al posto come meglio questo o il succo su cosa questo qua ci mette troppo ma hai visto dove dobbiamo andare dalla safe porco cane corro a merda via via vai 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 seguendo a me c'è una mitraglietta attrazione fatturativamente fammi bene un po di succo su cosa dai vedi vado un modo da spari si sente stato su una molla non c'è stanno non c'è stanza spara che sta più in giro che mi voglio vedere ecco bella l'erre posto di bene tanto con il medikit pure c'entrò tardi io ho fatto così la pompa ma non c'è una cassa sopra io vado io vado io vado io vado perché mi devi aspettare ma devi capire ho capito siamo qua io so c'è il quale non sta ancora il 6 ma perché c'è dei video che abbiamo annanze e se moriamo voi due parti sfiga ma fatti facciamo ridotto sì non curano ora dai mi devi aspettare mi sto qua sotto ne potevi inseguire ma che cosa che c'era una cassa anche tu che saresti fermata una cassa Gabriele ma ammazza che squadra Gabriele è proprio oh brava una squadra bravo io vado vado un po' più cioè non lo so Gabriele c'è abbandonati gli amici a caso e vai avanti solo perché c'è caga che c'è la psins agrade te lo chiedi ooo e allora poi e allora ho pagato le mie amici capagine che cosa sono le gran stenne non c'è di nuovo il narco ecco occhio oh, andiamo a andare sta qua sta qua dove è? su madre muore oh, ma vuoi cadere che dirò io sto ancora a piedi valenti credo in lui oh non vincerà mai sta a pensare dai vedi? ti hai visto a zitta? ti muore il cane facciamone un altro sbrigati e la metti pronto ma poi la devi tirare qualcuno metti pronto quanto? a me la mia ecco due mi sta a mettere l'anni di Gesù Cristo oh non lo so ma prima io non c'è non giocassi ma oh la prossima volta vediamo pure l'anni non solo l'anni perché è bravissimo più forte di me si più forte di Gabri si si che bello no è fortissimo non so non so neanche come si gioca non so neanche come si gioca eh no per cose due è fortissimo si ha fatto arriva il primo terzo ma ha fatto arriva il terzo non lui da solo che io ero morto è arrivato terzo mi faccio inculare dall'erba guarda raga mi faccio inculare dall'erba vedete l'ago ora io vado da solo ora io vado da solo io vado da solo no vado da solo io chi mi vuole seguire mi segue io vado da solo ecco vedi Gabriele va da solo Gabriele va dove si è andata? sta qui ma com'è no? si sta a buttare lì ecco qua ci stanno pure gli dici non sono specchi no zitta ci sta un po' di gente qua anche dei contasi porco cane quanta gente che ci sta brigadi vabbè mi chiedi niente questa casa è in Rio ok vale aspetta che sto giù ok vale ma chi chi esce? come sta a prendere tutto? ah è tutto giocoso eh? vieni 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 sbrigati come ne sono i sogni che schifo che schifo oddio oddio non spero non spero eh vabbè ma fai ancora porco due posso bestellare? no se non video youtube no non c'è un pizzo non c'è un pizzo fuori va merda fuori aiii dai fatti uccide sbrigati ne facciamo un altro dai fatta ammazzà fatta ammazzà abbandoniamo allora che palle tom a tom a ti invito si non voglio aspettare vabbè allora ne faccio uno da solo oh gabriello non mi ha mai aspettato ok allora all'inizio se entrate si però non ci mettete l'anidio facciamo l'ultimo se viene entra sennò si attacca ammetti te sbrighi gabriello porco due oh ma poi non mi accendi che ha paolo no ma forza gabriello dai io non giocavo allora vedi perché non lo volevo invidà ecco mo gabriello si chiama gabriello ma lì non c'è da me la mia moglie si io provo a prenderla no però bene tutti è la stessa putte ragazzi noi muoviamo ora vado per conto mio se vado all'inizio a me no da solo li muoiamo vado per conto tuo vado ma che cazzo le uovi vado 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 da solo li muoiamo io non vado da solo li muoiamo vado per il nome Oh Gabriele sta a fare così solo perchè è invidioso Eh è vero eh? Sì ho fatto un c***o Oh hai iniziato a farlo? Ho scondito tutti e guarda la volta Perché guarda la volta Noi dove sono? Ah allora Seko quante volte sei arrivato? Quante quante volte sei arrivato? Ho detto Vedpando quante volte sei arrivato Tanto guarda è stare in un video di video che vive che il canale Cosa? Segui il canale Complimenti Complimenti no 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 sai dovevi mettere su un completamente che ci voleva tanto a prendere il tasto su ma che cazzo ti frega che cambia se ci segui lo ammazziamo io avevo conto a me io vado io vado io vado io vado mi seguo l'istinto no no una cassa ecco ho trovato già una rara la mitraglietta tattica vieni qua va scusa se ho cambiato all'ultimo tommai attento basta tommai stiamo su video youtube basta ma parco un parco da qualcosa di una prima cioccolata in blu è un personito a cura c'è sta quello che testa ci chiamo come un porco c'è sta uno che mi sta cercando spera molto lo stavo a far apposta sotto forma di oh se non smetti di speller al party ma tu manco sai chi è gesù oh se mi aspetti magari vengo con te gabriel però mi devi aspettare io c'ho la mitraglietta tattica rara scusate ecco ti giuro si ma perché stai solo dentro casa ah il blu sta pulita è il blu il parco un parco da vitraglietta tattica blu blu ah bravo gabriele abbandoni brutto stronzo bravo non me l'hai detto ma almeno il tommaso è uno che mi rispetto è pecciotto ti immagini arriviamo primi grazie a me rega non mi rispetto Hanno spaccato il tuo cuore E' lo spaccato il tuo cuore E' lo spaccato il tuo cuore un po' di più andavamo che palle ore quasi sono stati e ancora gestando sono è chiuso è chiuso è chiuso no dove non c'è sta nessuno 30 dretti grandi donne unico da rispetto io vorrei un po la voglio camperà nella campero perché ci sarà qualcuno qua ma perché mi è partita solo mi sono messo pure paura pensavo che mi stavano spaccato sta all'aggasta oh la c'è un'arma vedi lucio quando si bugga mi sa che è cresciato ecco guarda guarda vedi lo sapevo Larry o d'immagine oh mamma muore meglio di usante no no spero che il video vi sia piaciuto mettetele a clicamenti ragazzi Gabriele è proprio folle se vi piace comunque raga vi prometterò non farò più video con Gabriele perché si fa così mettete un like e un comment e iscrivetevi al canale ciao a tutti raga che buono